Il sindaco di Caserta non può essere che orgoglioso di questa realtà. Assolutamente, noi vogliamo continuare la storia che dal 1789 Ferdinando IV ha ripreso, abbiamo un decreto del patrimonio UNESCO, questo è il patrimonio dell'umanità, deve continuare col sistema convegnistico, le aree museali, abbiamo recuperato gli antichi telai dell'Ottocento che oggi diventeranno anche un luogo di formazione per i giovani. Dobbiamo mettere a sistema quelli che sono i prodotti gastronomici con il grande patrimonio della filiera dei beni culturali. Grazie.